Dopo appuntamento a Trieste per i radicali che dopo aver presentato i sei quesiti referendari riguardanti la giustizia si apprestano domani a proporre un altro pacchetto di sei referendum che spaziano dal divorzio breve all'abolizione dell'otto per mille. Franca Fiorellino. Slogan efficaci per lanciare i dodici quesiti referendari che i radicali proporranno in questi giorni a Trieste. Il primo oggi sulla cosiddetta giustizia giusta, domani gli altri sei sui diritti umani. A presentare il referendum Marco Gentili, responsabile triestino dei radicali. Si è parlato della responsabilità civile dei magistrati, della separazione delle carriere e magistrati fuori ruolo, del no deciso all'abuso della custodia cautelare e dell'abolizione dell'ergastolo. Il timore è che dopo le defezioni dei cittadini alle ultime elezioni al referendum si possa non raggiungere il quorum. Quando il Parlamento non interviene è un dovere dei cittadini in qualche modo firmare per proporre queste riforme. A sostenere la campagna radicale Andrea Frassini, presidente della Camera Penale di Trieste, e Stefano Patuanelli, rappresentante dei Cinque Stelle. Ai quesiti sulla giustizia giusta si affiancano quelli sulla droga, per cui si chiede di evitare il carcere per fatti di lieve entità. Si vuol poi abrogare il reato di clandestinità, che punisce, affermano i radicali, una condizione anziché una condotta. Un altro quesito riguarda il finanziamento ai partiti, di cui si vorrebbe mantenere solo la disposizione che riguarda le detrazioni per le erogazioni liberali. Infine si voterà per abolire l'otto per mille e per il divorzio breve. Gli interessati possono già cominciare a firmare sia presso gli uffici comunali che nei tribunali e nelle piazze dove sono stati istituiti dei gazebo. Grazie. Grazie.